La tua popolarità sta calando. 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 Una popolarità sta calando. giù che la popolarità sta calando. La primera popolarità sta calando. La timore viene al 청 each other. No. Sero. Qui non è possibile, mio signore In attesa di oggi Servono altre reclute, Sire Qui non è possibile, mio signore Maulai In attesa di oggi Amrokaya maulai L'escesa Aisufi chidmatikom Perchamutla via Amrat Vado Ci muoviamo, immediatamente Frecce pronte Pronti a tirare Un messaggio dal sultano La pozza nell'oasi del sultano Si sta inaridendo Ci muoviamo, immediatamente Un messaggio dal sultano Un cielo infuocato Si avvicina alla cortezza del sultano Il mio arco è vostro Frecce pronte Pronti a tirare Puntare Un messaggio dal sultano Tutti devono dormire il sonno Degli amici Il sultano Non fa eccezione Vittoria Degli amici Degli amici Degli amici Il sultano Puga Degli amici Di Grazie a tutti.